È in via di conclusione il cantiere che renderà definitiva la rotatoria di Loreto. Nelle ultime giornate è stata infatti avviata l'opera di rifacimento dell'asfalto. Le tempistiche di questo stralcio di lavori e la momentanea sospensione dei posti auto collocati davanti al porticato dell'area hanno però suscitato malumori tra alcune delle attività commerciali della zona, come raccontano gli stessi titolari. Da lunedì abbiamo la possibilità di fare accomodare i clienti all'esterno ma già è qualcosa dopo mesi e mesi di asporto. Infatti martedì nonostante il tempo abbiamo lavorato anche se pioveva la gente si è seduta fuori e ha potuto prendere la colazione comodamente seduta. Poi mercoledì veniamo a lavorare e ci troviamo la sorpresa di ruspe, polvere e quant'altro. Tant'è che i clienti, quelli seduti ai tavolini fuori, si sono alzati e lì è finita la giornata perché hanno cominciato a rompere polvere, rumore, hanno spaccato tutto, hanno transennato tutto. Quei 3-4 parcheggi che ci avevano lasciato con la nuova rotatoria non si possono utilizzare perché ovviamente ci sono i mezzi di loro. Dopo mesi e mesi di pandemia, quello che ci è capitato, adesso ricominciamo un pochettino a sollevare la testa e non potevano cominciare i lavori in questi mesi che eravamo chiusi. Non sappiamo, sappiamo quando sono iniziati ma non si sa quando finiscono perché nel cartello c'è scritto di vieto di parcheggio fino a fine lavori, col punto interrogativo non si sa. Nessuno ci sa dare una risposta perché poi quando chiami in comune nessuno risponde. Noi così non lavoriamo, due giorni possiamo anche chiudere la porta. Poi un'altra cosa che ci siamo chiesti, perché iniziare i lavori alle 7 e mezza quando è il boom del traffico, si blocca tutto, la gente quando alle 6 già c'è l'ora di luce, voglio dire, quindi già dalle 6, un'ora e mezza si poteva guadagnare per cominciare i lavori. Sono già un paio di giorni che c'è il cartello di vieto di sosta, pertanto ieri è stata una giornata vuota, non è entrato nessun cliente, abbiamo perso l'incasso e tra l'altro abbiamo dovuto poi gettare anche il cibo che abbiamo preparato. Questi lavori già noi abbiamo aperto il 23 gennaio e al giorno dell'apertura già c'erano i lavori in corso dove ci hanno comunque tolto diversi parcheggi, quindi già è una zona difficile da parcheggiare. Poi da due giorni praticamente è impossibile. Abbiamo comunicato sulle nostre pagine Facebook e Instagram che provvediamo a consegnare a domicilio per questi giorni dove sono tutti impossibilitati a parcheggiare. Sulla questione, per chiarire i passaggi che hanno portato allo svolgimento dei lavori in queste giornate, è intervenuto l'assessore all'operatività del Comune di Pesaro, Enzo Belloni. Con questo intervento terminiamo i lavori della rotatoria di Loreto. Sono lavori che durano due o tre giorni, insomma, sono quelli di finitura, che ovviamente si fanno quando si può, nel senso ci vuole la temperatura giusta e le temperature si sono alzate da poco perché fino a qualche giorno fa era freddo. La disponibilità della ditta perché non è che le ditte che hanno l'appalto poi rispondono presenti, li chiami il giorno prima e il giorno dopo intervengono. Capiamo che ci possono essere dei disagi, è difficile andare dietro alle richieste e alle esigenze di tutti, magari ci chiedono di lavorare la mattina alle 6, poi ci sono quelli delle case che abitano di sopra che dicono cosa fate rumore alle 6 della mattina che dormiamo, quindi dobbiamo conciliare le esigenze di molti. È un disagio, ripeto, di un paio di giorni che non potevamo fare prima perché le temperature non consentivano di asfaltare prima. I parcheggi sono quelli che erano di progetto, ce ne sono due o tre parcheggi in quella zona lì e altri 7-8 davanti alla farmacia, quindi che sono a disco orario. Forse prima, come erano prima posizionati i parcheggi con le auto che entravano e poi dovevano uscire in retromarcia, era anche abbastanza pericoloso. Quindi abbiamo tenuto conto dei pedoni, dei ciclisti e della sicurezza soprattutto. Grazie a tutti.